buongiorno da cucina bievolutiva oggi prepareremo un'insalata velocissima estiva e fruttariana per quanto riguarda l'attrezzatura ci occorre le stratture di succo che useremo soltanto per preparare il condimento e ora passiamo agli ingredienti un avocado un peperone giallo un peperone rosso un cetriolo una trentina di pomodori ciliegini condiremo con il succo di metà mela di un limone e di un pezzettino di peperoncino di cayenne ed infine per insipidire utilizzeremo dei pomodori essiccati tagliati a listarelle oppure semplicemente sbriciolati dopo averli tritati come preferite passiamo alla preparazione tagliamo a 4 spicchi i pomodorini e li mettiamo in un grande contenitore tagliamo per lungo i cetrioli a croce qualora non digeriste i semi del cetriolo toglieteli tagliamo quindi a piccoli pezzettini aggiungiamo i cetrioli ai pomodorini e passiamo al peperone lo mondiamo per bene privandolo dei semi e delle parti filamentose bianche interne lo tagliamo quindi a listarelle per fare prima li possiamo sovrapporre due parti assieme e ora li tagliamo a dallini stessa cosa col peperone giallo sempre a listarelle poi tagliato a dallini e voilà e ora tagliamo l'avocado ovviamente privato della buccia e del seme a cubetti e ora aggiungiamo anche i cubetti di avocado e ora il condimento che consiste in un estratto di mela limone e peperoncino è sufficiente mezza mela la priviamo dei semi e la passiamo all'estrattore togliamo la scorza limone ed estraiamo nel succo un pezzettino di peperoncino di cayenne e voilà versiamo il condimento giriamo e siamo pronti per la presentazione per insipidire aggiungiamo ora a mo' di sale i pomodori essiccati polverizzati o tritati un'ultima girata l'insalata estiva fruttariana è pronta buona cucina bioevolutiva a tutti e alla prossima videoricetta